allora adesso una bella padella si ci vuoi con il pene e con la verdura quelle proprio super padellose allora io qui ho già pronta la mia pasta che era già un po calda la prima cosa che faccio innanzitutto vi dico che faccio rana pescatrice e peperoni e tagliati piccoli 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 cipollotto e pomodorotto stra buono prima metto il sale poi metto il sale metto le farfalle poi vado a prendere le farfalle olio abbondate di olio perché nella pasta ci vuole un criticacchi peperone l'ho preso giallo semplicemente perché poi ci metto un bel contrasto di colore più goloso il piccolo perché si tira su meglio facciamo rosalino io ci metto anche il coperchio così quota eccola qui la rana pescatrice se prendete la parte finale tanto sono dei tocchetti che servono per la padella che se prendete proprio il filetto filetto le fette lì sono care come il fuoco io sento un profumino ragazzi fatemi vedere la torta io qui c'ho da una parte il peperolato dall'altra il cioccolone pezzettino di pesce ciao 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 ciao